È ormai più di un anno che il Covid-19 ha sconvolto la vita dell'intera umanità. È una malattia causata dall'infezione da SARS-CoV-2 che penetra all'interno dell'organismo attraverso la respirazione e quindi principalmente attraverso il naso e la bocca dell'individuo. Adesso sappiamo che la malattia evolve attraverso una serie di fasi, quindi al trascorrere del tempo dal giorno dell'infezione la gravità della malattia si modifica e le tre fasi che sono state individuate sono la fase dell'infezione iniziale, la fase polmonare con i sintomi respiratori o più o meno gravi e la fase iperinfiammatoria dell'organismo che reagisce in maniera anche molto violenta all'infezione virale. Il virus quindi ha il suo punto di accesso laddove inizia a moltiplicarsi nel naso e nelle vie respiratorie superiori. Ecco quindi la nostra idea per una terapia che a tutt'oggi non è disponibile per trattare la malattia e per evitare che progredisca dalla fase di infezione precoce verso le forme con gravità superiori. Entrare nel naso con un farmaco antivirale specifico che quindi colpisca il virus direttamente sulla superficie della mucosa, nelle cellule della mucosa nasale dove il virus si è annidato. I farmaci nasali di solito sono dei liquidi. La nostra idea invece è di fare un farmaco nasale anti-covid in forma di polvere e questo perché la polvere comporta una maggiore concentrazione del farmaco nel sito d'azione contro il virus. Per colpire il virus abbiamo bisogno di una sostanza specifica che gli impedisca di replicarsi e quindi abbiamo selezionato in mezzo a numerose sostanze un farmaco antivirale. Si tratta di una molecola già in commercio che siamo in grado di introdurre nella polvere in forma di particelle molto piccole. Per arrivare a questo prodotto si parte dalla produzione della polvere del farmaco. Tutti i componenti vengono solubilizzati e la soluzione che si ottiene viene processata in questo strumento che prende il nome di spray dryer o essiccamento spruzzo. Ovvero la soluzione viene nebulizzata in questa camera dove circola dell'aria calda che permette l'evaporazione del solvente e quindi noi otteniamo solo del solido che attraverso questo percorso arriva qui dove lo raccogliamo. Una volta prodotta la polvere deve essere caratterizzata in quanto per entrare nel naso deve avere le dimensioni giuste e quindi il giusto grado di finezza. Una volta fatto ciò andremo a caricare la polvere nel suo dispositivo per la somministrazione successiva e andiamo ad aprire il dispositivo e a caricare dentro la dose giusta di farmaco necessaria all'azione farmacologica. Siamo un gruppo di ricerca appassionati di tecnologia farmaceutica e per questo possiamo risolvere i problemi terapeutici perché sappiamo come costruire medicinali. E per Covid-19 abbiamo già ideato la formula di alcune polveri e depositato domanda di brevetto. In sei mesi contiamo di arrivare al prototipo del prodotto già caratterizzato e già con una efficacia antivirale dimostrata in vitro, quindi su culture cellulare, in modo poi da poterlo testare per la tollerabilità in volontari sani. L'impatto che questo prodotto avrà sulla collettività è duplice. Sarà uno strumento di cura precoce per intervenire il più presto possibile nella prima fase della patologia e sarà uno strumento per diminuire la contagiosità dei soggetti positivi. Nel 2020 Covid-19 ha messo in pausa le nostre vite. La nostra ricerca può rimetterla in moto nel 2021. Contiamo anche su di te per realizzarla. Grazie per esserci! Grazie per la visione!